44, è un libro che parla di guerra e di un'alba tragica dell'8 settembre, ma parla anche di come nacquero le energie che poi in Italia produssero quel corpo sofferente all'inizio, ma poi che man mano si sviluppò, che fu l'Italia del miracolo economico, che fu l'Italia della ricostruzione. Ed è anche un omaggio a una generazione in cui dobbiamo tanto, che ci ha dato la concordia civile allo spirito. Io ringrazio il professor per la questione a lungo di questi valori e vi consegno un libro. Grazie anche per questo, sempre alla voce di ringraziamenti, ringraziamo per essere qui Paolo Ciampa, Cesare Sarchiavone, Tonio Di Berardino e Graziano Di Costanzo e finalmente la parola a Giuseppe Delita. Grazie. A quest'ora predica breve, perché sono le notte 25. Scusate se abbiamo fatto tardi perché sono arrivato tardi io, le ultime due volte che sono venuto a Pescara sono arrivato tardissimo, questa sera l'avete visto, l'oltre precedente era andato in parrocchia Cristo Redda dei Gesuiti e mi sono perso lì per le colline della parrocchia e quindi sono arrivato anche lì con 40 minuti di ritardo. La prossima volta che vengo prometto che non farò ritardo. Io farò una riflessione non così calda, non così precisa, puntuale come quella dei colleghi di questo Paolo. Cerco soltanto di fare una riflessione che permetta quel tipo di riflessione che tutti quanti noi abbiamo considerato essenziale. Perché? Perché secondo me, credo che abbia ragione, abbia avuto ragione, Ferilli, Fosilli, a dire siamo in periodo di latenza. La latenza è un momento in cui qualcosa nasce, qualcosa diminuisce, qualcosa appare, qualcosa non appare. E su questo argomento noi siamo in latenza. Siamo in latenza perché anche tutto quello che ci gira intorno permette imponere la latenza, cioè utilizzare questa sospensione del tempo per capire dove andare. Io non credo onestamente che la riforma costituzionale di cui si parla andrà in porto prima della fine della legislatura. Perché avete già visto il problema dei piccoli comuni o delle province a passare in secondo livello rispetto alla lettera a Macee e al potere della banca centrale, ai licenziamenti facili dei giornali di oggi. I meccanismi dell'obbina politica vanno per proprio conto. E quindi noi abbiamo il tempo per riflettere, perché non ci sarà una riforma in quella direzione. Così come non abbiamo il tempo di traluggiare, ruminare il federalismo fiscale, perché è stato giustamente detto, è stato fatto malissimo e quindi in qualche modo... Quello che è importante è che si sposti per fare una riflessione nel periodo di latenza. si sposti il livello e il luogo della formazione dell'opinione. Perché se il luogo dell'opinione, della riflessione, della proposta resta a Roma, è evidente che basta lanciare l'idea, dobbiamo controllare i costi a politica, dove andiamo, nelle province, lineiamo le province, i comuni, riduciamo i comuni, qualsiasi cosa va bene. E basta un po' d'opinione pubblica, un po' di giornali, un po' di discussione in Parlamento per creare una situazione di quel genere. Una situazione in cui la riflessione sulle cose non avviene mai più, come sarebbe giusto in un periodo di latenza all'interno dell'oggetto, del soggetto, della realtà da modificare, ma avviene fuori. A livello locale si lascia non un meccanismo di riflessione politica vera, ma si lascia la discussione sui meccanismi con cui si potrebbe applicare l'eventuale riforma di, come dico io, con qualche cattivelia a livello locale si lascia il pennarello, perché il pennarello ridistribuisce i confini, riaggregi le città, riaggregi i comuni, ma quello non è politica, non c'è nulla nel pennarello che abbia il livello dei politici. Certo, si discute mille volte, il pennarello è meraviglioso, discute se quel comune deve entrare o non deve entrare, deve collegarsi con l'altro, se deve combinare la grande città nella media città nell'area metropolitana, ma non è quello il problema. Il problema è in qualche modo di studiare come in questo periodo di latenza si pone il problema del rapporto del territorio con il potere. E sappiamo tutti che non sempre il grande è il maggiore potere. Più grande si diventa in alcuni casi più si ha una classe dirigente di basso profilo, di minore responsabilità. In alcuni casi in Italia abbiamo visto il grande accompagnato da una mediocre classe dirigente. Così come il piccolo non sempre bello, alcune volte c'ha anche i suoi difetti da questo contesto. Pensate ad esempio che un discorso di riflessione in periodo di latenza oggi su questi argomenti che stiamo discutendo andrebbe depurato da una parte del pennarello, da una parte dell'opinione facile, aboliamo le province, facciamo qui, facciamo là, ma andrebbe depurato anche dai due grandi vizi che abbiamo, il centralismo regionale che in fondo modifica totalmente il nostro modo di ragionare sul territorio e dall'altra parte il clientelismo localistico che in qualche modo poi cambia anche le regole del gioco, anche delle poesie che ci diciamo fra di loro. Allora, andiamo a vedere quali sono i punti di riferimento di una riflessione di questo genere. Senza ideologie di piccolo e grande, io stesso mi spoglio del fatto che vengo considerato il profeta del piccolo, non mi interessa. E vado su tre punti fondamentali. Il primo punto fondamentale è se un sistema moderno vive di logica gerarchica o di architettura distribuita. Di solito il nostro meccanismo mentale è che se c'è un sistema da governare si fa la piramide, si fa il meccanismo gerarchico. Perché? Perché siamo tutti figli del nostro liceo, ci hanno insegnato che ogni sistema va governato come il corpo umano, con l'apologo e i menerio grippa, le singoli arti, i singoli terminali del sistema non hanno altro che il potere di rinviare al cervello, al sistema nervoso centrale, dei messaggi, poi messaggi il cervello invia il messaggio. Non è più così? Questa idea, chiamo così, fisiocratica del sistema come corpo umano, andò appena in menerio grippa, ma oggi che ci sono tutti i sistemi sono distribuiti e l'architettura distribuita arrivava. Molti di voi ricorderanno che quando a un certo punto è arrivata l'informatica nelle banche, nelle banche avevano il cervellone, interi, cantine fatte di grandi, calcolatori enormi, sempre più potenti, dove arrivava tutto e poi doveva rispedire all'esterno. Non è successo. Oggi le banche, come ogni sistema moderno, funzionano dall'architettura distribuita, funzionano addirittura con le singole filiali o i singoli punti di potere che dialogano fra di loro senza passare per il centro. Questa idea di passare per il centro con la gerarchia del processo di informazione verso l'alto, del processo di decisione dall'alto verso il basso, non funziona più. E quindi non è un problema piccolo o medio, è proprio un problema intellettuale. Oggi i sistemi complessi richiedono l'architettura distribuita dei poteri. Ci sono cento comuni, cento comuni hanno probabilmente dei poteri che possono circolare fra di loro, colloquiare fra di loro, possono anche non andare al centro, non possono andare a chiudersi in una punta della piramide che poi non funziona. Secondo, essere moderni oggi significa governare i sistemi con una cultura di architettura distribuita. Secondo, governare i sistemi complessi oggi significa governare sapendo benissimo qual è la dimensione di equilibrio fra dimensione orizzontale e dimensione verticale. Noi siamo un paese di orizzontalità. I 9000 comuni non sono altro che la dimensione. Il nostro paesaggio è tutto orizzontale. Il nostro modo della distribuzione nell'insediamento, la stessa distribuzione dell'industria in Italia che non è stata tutta Torino e Milano. Alla fine si è andata per centinaia di comuni del nord-est, dell'Adriatico, del centro Italia. Abbiamo fatto sempre orizzontale. Mi dicevano l'altro giorno che l'unico che sta reagendo a questa idea dell'orizzontalità è Milano che fa grattacieli. e venendo in macchina da Roma a qui mi sono guardato intorno per vedere quale era il lì. L'edificio preste più di 4 o 5 piani. Non l'ho trovato. Soltanto entrando a Pescara ho trovato qualche torre più alta. Il problema nostro è che con orizzontalità sfruttiamo benissimo il terreno, viviamo bene, facciamo un rapporto con il territorio degnitoso, ma non abbiamo mai questa capacità verticale di contare, di vedere dall'alto, di dire dall'alto cosa si bisogna fare. Restiamo piatti piatti. Allora il secondo problema che abbiamo è avere un'architettura distribuita, ma avere anche dei luoghi in questa architettura distribuita che facciano un po' da... non da grattacieli, ma almeno da qualche cosa che permetta di vedere il luogo. Non per fare un grattacielo a Pescara, due grattacieli, tre grattacieli, ma qualcosa che almeno vede un altro spontaneo adriatico per dire vede gli orizzonti. Abbia capacità di vedere l'orizzonte. Abbiamo tutti i orizzonti praticamente chiusi. Poi se avete una regione di montagna, veramente l'orizzonte è più spesso chiuso che aperto, ma ci vuole questa dimensione di qualcuno che nella realtà faccia la funzione intellettuale del grattacielo, che sa vedere l'orizzonte e sa indicare la strada. Terzo elemento dialettico per fare una riflessione su quello che abbiamo fatto. c'è bisogno di una dimensione mezzo, di una dimensione intermedia. dell'Italia in questi giorni, devo dire anche con questo strano balletto sulla lettera della BCE, della lettera di Berlusconi, eccetera, eccetera, sui articoli del professor Giavanzi ed altro, naviga verso una dimensione fantasmatica che potremmo dire ognuno persegna l'egoismo di mercato e francoforte per tutti. Il mercato innanzitutto sbaracchiamo tutto, sbaracchiamo il sindacato, sbaracchiamo i contratti, sbaracchiamo e leviamo tutti i vincoli in modo che tutti possano essere dei piccoli marchionne che fanno il cavolo del comodo loro. perché poi alla fine, se c'è un problema, c'è Francoforte, c'è il dottor Draghi, adesso, c'è il potere finanziario, c'è la possibilità di comprarsi una parte dei nostri pot, quando li dobbiamo ai med. E' il mezzo che rimane. Rimane un governo che non esiste, rimangono delle regioni che hanno poco potere, rimangono dei sindacati, dei qualificati e dei legittimati. Chi rimane? L'unica struttura che ha saputo sempre governare il mondo da 2000 anni a sta parte, c'è la Chiesa, e la Chiesa ha sempre mantenuto il vertice del Papa che sa tutto, i parrogliani, alcune volte anche ignoranti, ma in mezzo c'era il vescovo, c'erano i cardinali, c'era una dimensione intermedia, c'era una dimensione meso. Allora, questi tre argomenti, fare un'organizzazione del potere ad accettare la inevitabile struttura ad architettura distribuita del potere, avere una dimensione equilibrata fra orizzontalità del nostro sguardo e verticalità delle nostre esigenze di orientamento. Terzo, avere una dimensione meso è fondamentale. Ma la dimensione meso che è il punto a cui arrivo adesso, perché è quella che poi arriva a piedi giunti nel discorso che avete fatto tutti, la dimensione meso qual è? è l'area vasta, è la provincia, sono le province regionali, sono le regioni, le unioni di regioni, sono le unioni di comuni, c'è un casino infernale su questo. Parliamo tutti di area vasta, io confesso che per molti anni ho visto, e lo dico, lo ripeto, ho visto nella provincia la possibilità, una provincia rivisitata, ristrutturata, di fare area vasta contro tutti i processi di riorganizzazione del territorio, può darsi che sia sbagliato, però quello che è certo è che un discorso meso va fatto, che un discorso d'area vasta va fatto, che qualcuno che si occupa dei problemi dell'area vasta va fatto, sarà la città metropolitana, sarà Roma capitale, Pescara capitale, qualcosa ci deve essere. E quello che è importante è che se valgono le tre cose che ho detto, architettura distribuita, orizzontalità versus verticalità e esigenza di una dimensione intermedia, dell'area vasta, la definizione dell'area vasta è la prima cosa da fare, altrimenti ci si perde, c'è da fare come un impegno politico, come impegno culturale nei prossimi mesi di latenza, di sospensione secondo me della decisione, e poi invece marciare. Secondo me chi si gioca, io lo sto vedendo nella Regione Nazio, chi si gioca la responsabilità di fare l'imprenditore di un'idea di un'area vasta, secondo me diventa, può diventare una parte di ridice più indifferente, così come per certi versi Forbiconi ha capito che la sua area vasta era la Lombardia, tipo papiera, e se la gioca fino in fondo. Dice, ma noi non ci aspettiamo alla Lombardia tipo papiera, ma bisogna trovarsi come unione di regioni oppure come meccanismi infrarregionali che permettono una dimensione di rapporto. E quali sono i criteri per definire l'area vasta? Sono sostanzialmente tre. Primo, dove si controllano i flussi? Dove si aggregano gli interessi? Seconda cosa. E terzo, dove si riesce a fare prossimità e vicinanza con l'accesso. Questi fai tre punti. Un'area vasta definita col pennarello non funziona. È il ruolo per fare l'area vasta. È la funzione, è già stato detto prima. Se la funzione è incardinata sui flussi, allora bisogna capire quali sono i flussi che si governano. Se il flusso che si vuole governare è il rapporto con l'est europeo, è una cosa diversa in termini di organizzazione dell'area vasta che se il flusso si pensa di rivolgersi a Roma. Io non lo farei mai, naturalmente, però questo è il punto. Se il meccanismo, qual è il flusso che incide di più? È quello verticale della linea deliatica di Andrea Tiana Memoria, di cui parlava D'Alfonso prima. È quella nuova ispirazione di andare verso l'est, magari con una riflessione portuale diversa con Ancona. è quella di entrare nel mercato italiano attraverso il sud, attraverso Roma e non andando direttamente verso il sud. Ma i flussi sono importanti, tanto più che non possono essere solo flussi di merci o di persone, ma anche flussi di capitali. dove va il risparmio di quest'area? Chi gestisce il risparmio e gli investimenti di quest'area con altre? Qual è la dimensione dei flussi finanziari oltre che dei flussi di merci in una realtà come questa? Se si capisce dove stanno i luoghi in cui c'è il governo dei flussi finanziari, di merci, di intellettualità, la citazione dell'Università d'Ancora non è di basso profilo. Anche i flussi di indietro. Se un'università ne vedo, non conosco le verità, mi esimo dal parlare, ma conosco tante altre università che non sono altro che dei luoghi stanchi per fare lauree inutili triennali. Se invece, come è stato citato ancora, io l'ho amato moltissimo perché una delle cose con cui ho avuto più consonanze è stato Giorgio Fuà, proprio perché anche lui c'era questo senso del policentrismo dello sviluppo, beh allora è un'altra cosa. Quindi per definire l'area bassa di riferimento è il ruolo dell'area bassa nella gestione dei flussi. Secondo, il ruolo dell'area bassa nella gestione dei luoghi. Lo metto per secondo perché secondo me è secondario. Perché solo i flussi danno potere. I luoghi danno sistemazione. È evidente che oggi in Abbruzzo, ma in tutta l'Italia centrale, c'è un problema di rapporto fra i territori, fra i luoghi, fra la città e il suo retroterra. Fra la città e i suoi rifiuti e le sue discariche. Fra la città e il rinservatichimento di cui parlavamo prima. Il problema dei luoghi è importante. Non è, a mio avviso, il prioritario. Il prioritario è il ruolo nei flussi. Il secondo è il ruolo nei luoghi. E il terzo, lo metto per terzo, però ce lo devo mettere per dovere civile, ma è anche per convinzione di uomo di coesione sociale, e i servizi e la prossimità con la popolazione. Non è che le istituzioni fanno i flussi, i luoghi, i pennarelli, le trasformazioni, le istituzioni, i tagli dei comuni. È la prossimità alla gente che fa l'istituzione. In una riunione a Campobasso qualche mese fa, forse un annetto fa, mi sono ritrovato con i sindaci dei comuni che dicevano non ci colpevolizzate se non abbiamo saputo far nulla con i fondi europei. Abbiamo fatto soltanto ribavimentazione e marciapiedi. E non ce ne vergogniamo. Perché la nostra popolazione è anziana e le bughe e i marciapiedi troppo alti fanno cadere. Li ho guardati sconvolto, naturalmente, da tecnocrate e programmatore quali sono un altro, però alla fine li ho capiti. E non è un problema di consenso, è un problema proprio di adesione alla gente. Però queste tre cose, l'area vasta che regola, che si inserisce con un potere sui russi, l'area vasta che organizza i luoghi, l'area vasta che rispetta la prossimità della gente, questi sono i criteri per definire l'area vasta. Sarà la grande Pescara, sarà la piccola Pescara, sarà l'unione dei comuni interno, fate quello che volete. Mi interessa poco, però, il giorno in cui dovessi venirvi a fare una verifica, se nel passo ulteriore che farete, come io spero, in questo momento di latenza, su queste tre cose sarebbe giudicati. se la definizione dell'area vasta è fatta con questi tre criteri, e con una cultura di star dentro un sistema ad architettura distribuita, un sistema che sia orizzontale, perché quella è la nostra storia, ma che ha anche dimensioni verticali, con un sistema che abbia capito che l'area vasta è fondamentale. ultimo numero, l'area vasta per queste cose qui, scusatela, l'area vasta ha bisogno di una cosa, che finisco su questo, l'area vasta ha bisogno di una cosa all'interno, che si vitalizzi la rappresentanza, senza rappresentanza non si vada a nessuna pagata. l'idea della verticalizzazione del potere, dei consigli comunali che non esistono, del sindaco direttamente, delle province, dei consigli regionali, in qualche modo che non hanno un reale potere, quando con l'associazionismo che va per conto proprio, col sindacato che difende soltanti interessi, se non c'è rappresentanza politica e sociale, l'area vasta non cresce. è il sangue, non di una democrazia, non sono retorico, non di una coesione sociale, non sono neppure ancora in questo caso retorico, ma del funzionamento minimale di una struttura istituzionale, è la rappresentanza. l'ho scritta ieri o l'altro ieri sul Corriere e quindi non voglio ripetermi, ma questo è il punto fondamentale. E allora se oggi siamo qui in tante centinaia di persone, dobbiamo sapere che tutto il dibattito che abbiamo fatto finora poi si traduce in qualche cosa, in qualche forma di partecipazione e rappresentanza. non si fa la novità con una leadership verticalizzata, forse anche di persone intelligenti come il mio amico D'Alfonso, non si fa l'area vasta con meccanismi, diciamo così, di pennarello, di articolazione, o di contrattazione politica o con una politica debole, si fa con una rappresentanza politica rivitalizzata e con una rappresentanza sociale forte. Per questo sostanzialmente anche la mia esperienza di dieci giorni fatto mi ha dimostrato che senza rappresentanza neppure la chiesa riesce oggi ad avere un reale potere, che può fare prediche, può fare giudizi di valori non negozianti, può addirittura chiedere il cambiamento di governo ma non ha potere, perché sono i flussi interni di rappresentanza che fanno la forza di un'istituzione. Ecco queste sono le cose che avevo da dirvi. Mi perdonerete se non sono entrato sui rapporti con Francavilla, con tutti i comuni del territorio, se con guardia grelle o con pene, per carità non... Lascio, come dice Giuseppe Antonio... No, Giuseppe Antonio, mi sono sbagliato, ma io proprio sono... Giuseppe Antonio lascio la mia nostalgia per guardia grelle, dove ho fatto una delle mie prime ricerche nel 57-58, quindi siamo in ora in tempi storici o preistorici, però questo meccanismo è un meccanismo vero. Quello che importa è ragionare non tanto con meccanismi tradizionali della gestione politica, ma dicendo che abbiamo 10 mesi, 12 mesi, 15 mesi, forse due anni di latenza delle decisioni su questo punto, prepariamoci per una proposta che abbia le caratteristiche, le motivazioni che ho detto prima. Grazie. 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 Al prossimo appuntamento un ringraziamento a chi c'è da una mano a farlo, cioè a Ivano Villani, a Daniela Luciani e a Giovanni Fatti. Grazie.